Amici di Inter, FanTV, cuori forti nero azzurri, bentornati da Michele Borrelli alle nostre video news del 16 di aprile per commentare quelle che sono state le parole che tanto hanno fatto discutere dell'amministratore delegato dell'area sport Giuseppe Marotta lunedì dopo l'intervista a Radio Anch'io, lo sport. Io veramente non avevo trovato queste parole eccezionali o così particolari, però tanti mi avete scritto allora andiamo sui tre argomenti principali per capire se davvero c'è tutto questo scenario imprevisto o qualcosa davvero è cambiato, non capisco rispetto forse a quale aspettativa. Allora, argomento numero uno, l'allenatore. Se ci avete seguito vi abbiamo parlato, vi abbiamo detto tante volte della possibilità di un cambio e quindi dei contatti con Antonio Conte, della valutazione poi di questa stagione con Spalletti delle valutazioni da fare complessive, ovviamente quando si tirerà la linea c'è a Champions League acquisita e poi il discorso più nostalgia di una parte di sponsor che vorrebbero, sponsor nelle persone soprattutto di Moratti, Tronchetti Provera, che vorrebbero il ritorno di Murigno. Ma abbiamo sempre detto che la prima grande alternativa a Spalletti in caso di cambio di panchina e Antonio Conte, questo già dalla pausa di gennaio. Cosa dice? Lo trovate su InterfanTV, se volete riprendere le puntate, l'8 di gennaio la prima sui contatti, il 12 sui contatti tra la Juventus, il 12 di marzo questo tra la Juventus e Conte e poi le altre due puntate dedicate a questo tema, il 24 di marzo e il 9 di aprile, trovate tutto sul canale. Cosa ha detto Marotta? Marotta ha detto semplicemente che Spalletti deve raggiungere l'obiettivo, quindi bisogna dargli fiducia perché ha dato una struttura di squadra che è improntata alla crescita e quindi ha ottenuto il suo risultato l'anno scorso, adesso quest'anno sta facendo il suo lavoro per raggiungere il risultato. Per quanto riguarda Antonio Conte, invece, ha detto che è normale che quando c'è un allenatore che ha vinto con la Juventus e con il Chelsea, ha fatto bene in nazionale ed è libero, è normale che lo si accosti a questo o all'altro club. Su questo argomento, quelli che sono a favore di un cambio di panchina, ma allora come è possibile, vuol dire che Suning non vuole investire, resta Spalletti e così anche altri che si sono lamentati per queste parole, semplicemente non ha detto che l'allenatore dell'anno prossimo sarà Spalletti e nemmeno Conte. Perché? Perché ovviamente la decisione ancora non è stata presa. Se fosse stato Spalletti l'allenatore, certo, della prossima stagione, avrebbe potuto dire che in caso di Champions League Spalletti sarà l'allenatore dell'Inter la prossima stagione. Non l'ha detto, non l'ha detto perché non è questa una certezza. Quindi lui ha contattato Conte, si sono parlati, bisogna programmare insieme, hanno trovato un accordo per risentirsi più in là. Ovviamente poi un allenatore come Conte ha altre offerte, così come l'Inter deve fare tutte le sue valutazioni e quindi è una possibilità. Ovviamente poi la proprietà avrà l'ultima parola, ma l'amministratore legato a Aria Sport ha grande voce in capitolo. Quindi per lui la prima scelta resta Antonio Conte in caso di cambio di panchina. E le valutazioni devono essere fatte su tanti aspetti, non solo sui risultati, anche sulla gestione, su tutto quello che è successo quest'anno, gli obiettivi dell'Inter più o meno futuri. Perché dico più o meno futuri? Perché il secondo argomento è la Juventus e il fair play finanziario. Sulla Juventus, anche qui io non capisco tante disperazioni di tifosi che dicono ma ha detto che la Juventus ancora per altri anni avrà il predominio economico. Ragazzi, noi lo diciamo sempre, 520 milioni di fatturato due anni fa, poi c'è stata una piccola contrazione intorno ai 500. L'Inter è in crescita negli ultimi tre anni, 2,40, 3,20, 3,50. Ma se continua l'Inter a crescere così e ha questa possibilità, si vede che ha dei margini di miglioramento anche per la Champions che prima non faceva, anche proseguendo alla media di 30-50 milioni all'anno per arrivare a 500, sempre considerando che la Juventus anche con Cristiano Ronaldo non vada ancora a incrementare perché c'è anche questa possibilità, per arrivare all'altezza della Juve dal punto di vista economico, di potenzialità, tre anni passano tutti perché 350, 400, 450, 500 e non è detto che poi la Juve resti lì a 500 perché tutti continuano a lavorare. Ma questo non significa matematicamente che non si può lottare per vincere perché se sei la seconda forza economica in Italia puoi anche fare una squadra forte che vada a vincere o essere favorita se lavori bene come direttore sportivo, se lavori bene come allenatore, se lavori bene come squadra, come progetto di squadra e di gioco, non è detto che tu non possa fare i tuoi 85-90 punti e lottare per lo scudetto anche se economicamente sei la seconda forza, economicamente il fair play finanziario, a qualcuno ancora non è chiaro, allora c'è il settlement agreement che finisce, è nato, cioè è stato firmato dall'Inter nel 2015 e finisce nel 2019, i famosi paletti, ma il fair play finanziario c'è per tutti, vale per tutti e significa spendere in base ai ricavi, dice ma Marotta ha detto puntelleremo la rosa e quindi ci saranno gli acquisti pochi ma giusti per dare l'esperienza, quindi è un ridimensionamento, ma meno sono gli acquisti e più forte può essere l'acquisto e più forti possono essere i giocatori presi, perché in base ai ricavi il costo giocatori dell'Inter deve essere circa il 60% rispetto al fatturato, quindi quella è la cifra che l'Inter può spendere sugli acquisti, più saranno, più rivoluzione si fa a livello di giocatori e più ovviamente scende il valore del giocatore acquistato, a meno che non sei bravo a prendere il giovane o a prendere il parametro zero, a prendere quello che ancora campione non è, quindi certo puntellare, come ha fatto anche l'esempio Godin, quindi a centrocampo anche un acquisto top, almeno uno diciamo di personalità, di esperienza, già si fanno tanti nomi, si è fatto l'anno scorso il nome di Modric, quest'anno quello di Rakitic, adesso quello di Gundogan che magari è più prendibile perché va in scadenza e ha già fatto capire che può cambiare aria, quindi un giocatore di quel tipo arriva, poi possono arrivare ovviamente abbiamo detto almeno due centrocampisti per quanto riguarda tutta la rosa e poi arriviamo all'ultimo capitolo, quello di Icardi, perché in base al discorso di Icardi può variare l'attacco, intanto l'Inter Lautaro Martinez l'ha portato a casa, che non ha pagato nemmeno tantissimo intorno ai 15 milioni più i bonus, quindi ottimo affare fatto, per quanto riguarda Icardi, Icardi cosa ha detto Marotta? Un'altra banalità se vogliamo, cioè che conta la volontà dell'Inter ma in questi casi, visto che si va a due anni dalla scadenza, del contratto conta anche la volontà del giocatore, quindi molto faranno le offerte, la volontà di Icardi di rimanere nell'Inter e quelli che saranno anche i discorsi economici che gireranno intorno all'offerta che l'Inter deciderà di fare nel caso in cui non dovesse arrivare un'offerta allettante per l'Inter. Quindi in quel caso in attacco parte Icardi e Lautaro, se invece non è questa la strada, anche perché Icardi decide o di accettare un'offerta o comunque di andare via, però ad oggi non è questa la sua scelta per quello che mi risulta e per quello che vi posso dire ad oggi 16 di aprile, quindi non è escluso che Icardi possa anche rimanere nell'Inter. Questo ha detto Marotta, non è cambiato il fair play finanziario il 15 di aprile quando ha fatto l'intervista, non è cambiata la potenzialità della Juventus, non è cambiata la potenzialità dell'Inter, non è stato definito al 100% l'allenatore se sarà Spalletti, se resta Spalletti o se arriva Conte e Marotta non l'ha detto e se avesse voluto confermare Spalletti per la prossima stagione l'avrebbe potuto dire con parole chiare, sarà l'allenatore dell'Inter in caso di Champions e non l'ha detto. Infine per quanto riguarda Icardi ovviamente conta anche la volontà del giocatore, Marotta ha sempre detto anche quando era la Juventus che la volontà del giocatore è importante perché non si tengono i giocatori contro voglia. Per quanto riguarda poi l'elogio, qualcuno ha visto un po' di parole inappropriate, l'elogio della Juventus, l'elogio della Juventus anche in ottica futura per quello che è stato fatto negli ultimi anni è anche l'elogio a se stesso perché Marotta è stato uno dei cardini dello sviluppo anche economico della Juventus che nel 2011-2012 vince il campionato con Matri e Quagliarella o Vucinic in attacco, poi poco alla volta si inizia a permettere sempre di più di Bala, Iguain, 7,5 fino poi tutto il discorso di Cristiano Ronaldo che però è ogni tipo di discorso economico. Grazie a tutti per il seguito, iscrivetevi al canale, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Inter, un caro saluto da Michele Borrelli, spero di essere stato d'aiuto per mettere i puntini sulle iso, alcuni discorsi, non c'è nessun tipo di allarmismo da fare. Sempre Forza Inter, ciao!